Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi siamo tornati su minecraft nella serie cosa succede se oggi andiamo a vedere che cosa c'è una cosa estremamente figa tra cui allora vediamo un po' diamanti o diamond in creative perché guardando le varie opzioni dei mob dei si dei mob andiamo bene dei biomi quindi come customizzare il proprio mondo minecraft ho pensato ma perché noi non andiamo a creare un mondo con tutti i diamond se noi togliamo per esempio la dirt no? massima altezza minima altezza spawn size anzi 33 era no? 33 ok grave tutto il resto noi andiamo a cambiare iron ore gold ore redstone ore diamond ore spawn da 33 la max altezza 25 10 mettiamo diciamo anche 14 15 a questo punto se noi andiamo a diminuire la terra eccola qua spawn size duck a questo punto dovremmo vedere che cosa dovremmo vedere? dovremmo vedere il mondo fatto con i diamond ore i diamond ore vediamo se funziona andiamo poi a vedere tutte le varie dinamiche che ci sono dietro questo mondo diamond ore oh si sta generando minecraft sta sfasando un attimo vediamo che cosa è successo che cosa sta facendo no dirt a quanto pare non è funzionato però adesso voglio andare a girare un po' voglio vedere che cosa effettivamente è successo perché non funziona guardiamo un po' allora il lore c'è effettivamente guardate si vedono ci sono un botto di diamanti ma non è l'effetto che abbiamo voluto c'è l'effetto voluto non è proprio questo si ci sono tanti cioè si trovano diamanti giacimenti diamanti e tutto il resto ma voglio fare una roba un po' più figa secondo si potremmo fare roba molto più figa ho un'idea di come farla adesso andremo a modificare meglio le varie configurazioni in modo tale da avere un sacco di miniere con davvero ore ore a bestia ma tutti i tipi di ore e tanti tipi di ore eccoci qua di nuovo delle impostazioni e voglio distogliere tutto grave le non spawnerà niente la granite non voglio farla spawnare la diorite manco più grande la diorite l'andesite manco e a questo punto iniziamo a mettere i call tac tutto al massimo iron al massimo no a questa al minimo adesso perché se no non mi spawna e mi sveglia ok questo ok qui ci siamo perfetto questo vabbè gold ore spawn size tac al massimo redstone pure al massimo diamond pure al massimo lapislazuli pure al massimo e poi abbassi questo perché da 16 lapislazuli ok abbiamo effettivamente un buon preset next page oh questo vabbè ho un po' l'idea di che cosa sia ok ok no e sono ritardato ho sbagliato vabbè lo rifaccio sta generando eh raga stiamo partendo vediamo che cosa succede non funziona ok ci metterà un po' a generarlo probabilmente perché sta un po' sfasando i vari cosi di minecraft quindi lui non ha proprio proprio gli stessi ok l'ha generato vediamo un po' allora la terra c'è sempre però effettivamente guardate un po' ecco abbiamo delle miniere molto molto particolari cioè abbiamo sì delle miniere fighissime addosso cioè guardate che figata cazzo ok è figo ma non è figo quanto io volessi cioè non è quel figo che dici oh mio dio quanto è figo ok un po' mi lascia un po' se un po' ma un po' forse non mi aggrada per il semplice fatto che non riesco a cambiare la dirt la terra io gliel'ho detto non spawnare la terra e lui me la spawna uguale non capisco dirt raga dirt è la terra la dirt lui non capisco ma parliamo di grotte cioè questa dirt ci deve essere per forza non riesco davvero a cambiarla in qualche modo perché qui effettivamente sì va bene mi piace tutto il resto è figo e siamo d'accordo poi posso farlo per carità riesco a cambiarla però non è proprio il risultato che ancora voglio a cui ambisco io perché sì vabbè che è figo cioè avresti i materiali ma che figata sta roba non è fighissimo cioè per carità non lo metti in dubbio che sia una figata ma voglio di più voglio ancora di più ecco io vorrei puntare per una cosa del genere capisco che sia un po' difficile da immaginare però che ne sai poi ci sono anche i villager i villager cagliardo eh ecco questa a me piacerebbe sarebbe secondo me una figata un mondo di Dior eh no non vi piace non è figo secondo voi secondo me è una figata estrema bim F2 e potrebbe essere figo ma ma ancora ancora siamo lontani dal cosiddetto e bellissimo della bellissima idea che mi ero fatto io dove ho il profondo ah poi c'è la terza però wow sì c'è una sottospecie di livello di diamond e poi ci sono gli oro figata beh è figo è figo è figo però probabilmente partendo da un villaggio riusciremo tranquillamente ad ottenere tutto il full diamond eh scusa eh ok che non crescono alberi però le coltivazioni le puoi fare un po' di terra la terra ce l'hai quanta ti pare i diamond ce l'hai quanta ti pare effettivamente così si potrebbe vivere in un mondo del genere non c'erresti il ferro tante cose le puoi fare però comunque sicuramente si può fare e poi c'hai tipo infinity slime slime ball boh non lo so ho voluto sfasare un attimo volevo fare sta prova done new world non lo so ho voluto sfasarlo un attimo sto mondo vediamo che viene fuori e non lo so non ho pali di idea di che cosa io stia tirando fuori poi però una cosa figa che voglio fare ve la faccio vedere dopo mi è venuta un'idea su come effettivamente utilizzare un mondo tutto bello figo con i diamond ok what the fucking crazy che figata cioè ci sono i mega cavernoni con i tipo what che figo sto mondo cioè gasa x secondo me forse vivere qua non dovrebbe essere proprio proprio facilissimo ma vi immagino eeeh poi qui si passa sul desee e la madonna però free calma ma questo ma arriva proprio a 256 si 256 a bestia cioè non avrai tipo oddio oh my god oh my god domanda spontanea 256 infatti 256 oh my god che figata sto mondo cioè sei sul tetto del mondo praticamente è un olimpo questo con roba particolarmente strana oddio i mob che non prendono fuoco e che spawnano anche di giorno tutti i tipi di mob qui non so per quale motivo c'è che cazzo c'è ah non lo so se è creato è come se si fosse generata una palude qua ma senza ma che figata con i biomi tutti tipo attaccatissimi è figo è sfasatissimo sto coso però è figo secondo me per quanto è sfasato è figo non ci si non capisco provo a capirli meglio questi settaggi perché potrebbe venire fuori qualcosa cioè capite la particolarità di sto mondo cioè molto molto particolare allora questo è uno dei mondi forse un po' più strani di minecraft si chiama cave of chaos che sono le tipo miniere caotiche quelle di minecraft modificate da me un pochino e tipo l'acqua non ci dovrebbe essere una delle varie cose ho ridotto anche il numero di la dimensione dei biomi guardate un po' guardate un po' guardate un po' guardate un po' che figata cioè siamo a livello 54 e siamo ovviamente su ghiaccio ma ci sono tipo queste mille mille cose ma guardate arrivano anche sopra infatti guardate date il tempo di renderizzare il terreno abbiamo uno c'è un divario di praticamente 200 blocchi dal blocco più basso piazzato più basso piazzato al blocco più alto piazzato e fidatevi che è veramente un casino più calcolate che c'è tutta la la roba falling che cade perché non so per quale motivo si updateano infatti vedete c'è della gravel e della roba che cade oddio sarebbe praticamente impossibile fare una vanilla qua come cazzo fate non lo so ma perché cioè all'inizio si se già avessi qualche cosa qualche base da cui partire potrei farlo purtroppo è il disastro totale quando non hai niente e partire qua costruire basi e roba varia oddio potrebbe essere davvero particolare potremmo riuscire tranquillamente a generare roba del genere sul nostro mondo minecraft basta cambiare il seed e in base al seed questo si fa c'ha un seed particolare secondo me slash seed seed no seed ecco questo è il seed se voi mettete sto seed e andate in giro per minecraft in zone che non ha ancora caricato vi caricherà le zone di questo seed poi ci saranno pezzi in cui sfasa fotte sega però comunque avete fatto una roba figa secco se non ci fosse abbiamo guardate che abbiamo abbiamo trovato wow 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 abbiamo molto ecco questo biome è figo un botto secondo me qua poi con tutta la lava e tutto il resto vengono fuori certe cose fighissime guardate questa catena di ghiaccio estrema ok è figo è particolare però si può sicuramente creare qualcosa ancora di più particolare fatto settaggi ancora un po' più strani questo è strano forte di mondo ci sono i dungeon a bestia ci sono i biomi piccolissimi e quindi ci saranno biomi totalmente attaccati è molto c'è un sacco di slivello l'uno dall'altro guardate un po' eccolo qua proprio quello che volevo puntare a fare guardate la differenza di bioma cioè ok è un mondo totalmente strano ci sono biomi su biomi si incontra praticamente passi da 30 secondi di deserto ha un bioma che è totalmente innevato quindi davvero la stranezza più totale ci sono dei pilastri che ogni tanto si boom vanno su tantissimo ecco questi forzioni li potevo risparmiare forse perché per una survival è pressoché impossibile ma quello che volevo puntare è ad avere biomi stranissimi e ogni tanto queste cose estreme tirate su al caso perché guardate voi che figata che madonna ecco ecco questo è figo questo mi piace un sacco si creano sti pilastri enormi che da zero vanno a 256 perché vanno a 200 no non può essere più alto di 256 raga 256 proprio arrivano a 256 ed è proprio un pilastrone altissimo e ci c'è un differenza un offset di boom 200 blocchi esatto 200 blocchi no ma la cosa più figa secondo me è vedere sti biomi divisi cioè avere i biomi così piccoli ecco queste montagne dovrei riuscire a fare non sti ho sti cosi che si crescono e mi sfasano perché sono brutti però montagnone del genere che vanno su e cambiano con continuazione bioma è figo cioè c'è un deserto poi attaccato a un bioma nevoso ed ecco questo è figo secondo me perché puoi ottenere facilmente tutti i blocchi sarebbe carino farci una vanilla qua ed eccoci qua ragazzuoli ma stavolta l'ho creato in survival abbiamo la stessa casino con i biomi guardate un po' siamo deserto poi passiamo di qua che siamo nella planks nella pianura attraversiamo di nuovo il deserto e ci troviamo in un lago di lava ma non è finita perché poi continuando ok siamo circondati al lago di lava cazzo questo non ce l'ho pensato siamo molto alti 77 no neanche troppo vediamo un po' poi lì ci sono biomi nevati guardate questo è figo sto bioma cioè sto mondo è figo un sacco fidatevi di me sti slash slash seed se volete provarlo questo è il seed utilizzatelo ditemi un po' che ve ne pare è un mondo molto particolare si trovano spawner su spawner su spawner ci sono veramente tanti spawner in questo in questo mondo ma tipo il massimo se ne possono trovare davvero tanti si possono trovare tutti i tipi di spawn tutti i tipi di dungeon ovviamente ce ne sono tanti anche questi perchè probabilmente i più vicini saranno non so dove slash game mode 1 è abilitato non è abilitata la game mode quindi non è con i trucchi questo mondo e boh secondo me è figo vedere tutti i biomi così vicini avete davvero accesso a tutti a tutto quello che c'è in minecraft in uno spazio più piccolo quindi è un minecraft un po' semplificato secondo me senza dover andare tanto lontano ma potete davvero creare costruzioni molto molto particolari ragazzoli per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione lasciare un mi piace se vi è piaciuto iscrivervi al canale se lo avete fatto di condividere il video su facebook mi raccomando lo salito in descrizione facebook instagram e tele facciamo come al solito a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti